A un amico morto in apnea Mario, ti ho mai raccontato la storia indiana delle tre farfalle. C'è una luce che tremola in casa e c'è voglia di sapere alla finestra. Entrò dentro al fine una farfalla e ritorna dicendo È una cosa che emana calore e diffonde la sua luce tutt'attorno. Non mi basta, esclama la seconda. Entra, vola e sfiora con un'ala quella fiamma che vibra nell'aria. Si brucia e scappa, sgomenta. Sì, fa luce, emana calore, ma se appena ti avvicini, essa scotta. Non mi basta, esclama la terza. Vola attorno alla fiamma, la tenta. Poi in un impeto irrefrenabile, dentro il fuoco, s'annulla in un bagliore. Sono Mario. Tre tentativi per giungere alla verità. Ma più non torna chi prova la terza. Così mi piace pensare di te. Sugli azzurri fondali di Lampedusa. Tu sei giunto alla verità. Ma non sei più tornato dai tuoi cari. Né da me, che sto là in superficie. Ancora incerto sulla via da tentare. Allora, come un'altra black. Grazie a tutti